Esordio casalingo per il Termoli che domani affronterà Alcannarsa per la seconda giornata il San Cesario. I giallorossi tenteranno di fronte il pubblico amico di regalare la prima vittoria dopo l'abbio poco felice contro la Strea. In settimana mister Giacomarro ha lavorato con i suoi ripartendo da zero con un gruppo creato ex novo per la Serie D. Gli ingranaggi tra tecnico e squadra sono ancora in fase di rodaggio per far sì che si lavori e si giochi tutti all'unisono. Intanto ieri è stata ufficializzata la cessione del difensore Pier Giorgio della Cioppa al Francavilla Calcio. La sconfitta per 2-1 contro gli undici della Polizia Penitenziaria brucia ma ormai acqua passata. L'obiettivo ora è portare a casa i primi tre punti della stagione contro il San Cesario. A differenza degli Adriatici la matricola laziale ha aperto il torneo con una schiacciante vittoria per 4-1 contro Città di Marino e pertanto domani tenterà di bissare il risultato. In casa giallorossa invece mister Giacomarro dovrà schierare in campo un undici determinato e competitivo. In realtà rispetto alla partita di domenica scorsa unico dubbio è la difesa vista l'assenza di Maglione per squalifica. Si apre così il ballottaggio tra gli altri tre centrali a disposizione del tecnico. Falco, Giuliano e Corazzini si giocheranno infatti due posti davanti la porta. Anche se i dubbi di mister Giacomarro che assisterà alla partita dalla tribuna per via della squalifica verranno svelati solo domani prima del fischio d'inizio, presumibilmente l'undici in campo vedrà un 4-4-2 con imbimbo tra i pali. In difesa sulle fasce Vetteritti e Panarello, centrali Falco e Corazzini, centrocampo a quattro con Cianni, Moretti, Bonanno e D'Angelo, coppia d'attacco Miani-Bartolini, a dirigere l'incontro Termoli-San Cesario, il signor Andrea Gironda-Veraldi di Bari.